Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera di Natura con i Vigeno qui su IA21 intanto ho cambiato un po' di postazione, piano piano sto rivoluzionando tutto quello che ho attorno alla webcam che voi state vedendo in questo momento ho modificato anche la posizione del microfono quindi fatemi sapere se eventualmente mi sentite meglio o peggio o indifferente intanto oggi noi vedremo la finale del torneo per campionato contro lo Schalke e vedremo poi tutta una serie di trattative di calcio mercato abbiamo tanto da fare, abbiamo tanto da sistemare in squadra perché non sembra, la squadra gira, comunque stiamo facendo bene ma ci serve qualche giocatore in più sicuramente in difesa, sicuramente a centrocampo ed eventualmente uno in attacco dovesse partire Favilli mi avete chiesto però le istruzioni che ho dato alla squadra, eccole qui allora in difesa abbiamo equilibrato con queste tacche di ampiezza e profondità, fate pure gli screen ovviamente se vi dovessero servire spero vi siano utili perché io mi sto tornando davvero molto molto bene con questo modulo già dall'anno scorso manovra veloce per lo stile d'attacco quindi da puntare subito poi alla porta nelle ripartenze abbiamo angoli, punizioni, 3 di tacche per i giocatori in area abbiamo l'attaccante di sinistra con inserisciti alle spalle e basta perché fa ovviamente ruolo per inserirsi alle spalle ed è molto molto utile se il giocatore è veloce poi abbiamo rimani centrale e fai salire la squadra, questo anche serve un giocatore comunque abbastanza agile nell'attacco perché quelli statici non fanno molto bene in questo modulo il trequartista rimane predefinito sulla destra invece abbiamo rientra in difesa e gioca largo per l'esterno destro questo fa sì che l'esterno destro a volte faccia anche da terzino e da terzino in più e tra l'altro resta dietro nell'attacco anche per Van Ginkel faccia da terzino in più così con Draxler diventa quasi un esterno copertura al centro invece per Schöne che sarebbe il centrocampista centrale di sinistra modulamente 3-4-1-2 Pellegrini a taglia dentro e inserisci T alle spalle perché serve ovviamente per l'esterno sinistra che fa quasi da terza punta tante volte e abbiamo i difensori e il portiere invece predefinito quindi rimangono così questo è il mio modulo, queste sono le mie tattiche che però ovviamente devo dar credito a The King perché lui le ha pubblicizzate l'anno scorso con la carriera col Salford e le ho provate perché mi trovavo male con il Parma mi trovavo in un modulo molto molto difficile da riuscire ad usare e usando questo modulo, usando queste tattiche la squadra si è rivoluzionata da lì non l'ho più cambiato quindi ovviamente vi lascio poi il link del canale The King in descrizione qualora non siate già iscritti cosa che sarebbe veramente strano ma ovviamente vi invito a passare dal suo canale intanto turnover tra l'altro dovrebbe poi tornare in dicembre comunque in questi giorni dovrebbe poi tornare con qualche notizia per il canale intanto Marcos Rocco proviamo a trattarlo 3 anni giocatore importante, lui adesso in teoria dovrebbe prendere sui 25.000 riuscissimo a avere qualcosina in meno 11.000 sarebbe perfetto ragazzi 11.000 sarebbe davvero perfetto mi piace molto come offerta 11.000 va benissimo, giocatore importante Marcos Rocco sarà il difensore centrale diciamo di riserva tra virgolette per Komar io però vi ricordo che qui non ci sono effettivamente riserva ma giocatori che si alternano tra di loro offerta per Cassata che abbiamo messo sul mercato nello scorso episodio 2.950.000 dal Celtavigo vi dico, dovessi cedere Cassata lo farei volentieri al Celtavigo questo perché mi conoscete abbiamo portato il Celtavigo qui sul canale e quindi c'è un po' di amore per questa squadra e per questa carriera intanto Cassata mi avete consigliato di venderlo davvero in tanti praticamente tutti mi avete detto di venderlo in pochi mi hanno chiesto di tenerlo perché Cassata effettivamente ha 24 anni il 72 si può crescere però il potenziale mi pare sia 74 può superarlo tranquillamente però non sta rendendo come mi piacerebbe non è un giocatore che mi sta piacendo più che altro perché io sapete non do troppo peso all'overall sinceramente se un giocatore ha 72 ma lo trovo più forte in campo rispetto a un 80 gioco con 72 titolare senza farmi grandi problemi qual è però il punto diciamo negativo di Cassata è che quando gioca male sbaglia le cose basilari tra l'altro suona la sedia le cose basilari del mio centrocampista della mia mezzala perché Cassata tante volte sbaglia i passaggi per i compagni sulla destra e sulla sinistra per gli esterni e poi a volte quando si ritrova il tiro cicca completamente la porta questo è un po' un problema grande intanto Elias proviamo a chiederlo no il Seltavigo impazzisce e ci manda quel paese quindi la trattativa salta mi spiace come dicevo al Seltavigo mi sarebbe piaciuto cedere Cassata ecco qui la formazione dello Schalke 04 che scende in campo per la finale Farman in porta ritma attacca back Stambuli e Tenaglia penso sia Tenaglia giocatore molto molto interessante che abbiamo già visto in parecchie carriere Bentaleb a centrocampo con Mascarella dall'altra parte Baptistao e Belfodil attacco molto forte molto veloce o meglio Baptistao molto veloce Belfodil un po' meno ma davvero un gran gran bel giocatore abbiamo provato a prendere con il Palma per il ritorno in pompa magna in Serie A non è arrivato adesso comunque allo Schalke Milanti in porta super confermato dopo le due ottime belle sezioni Giannetti, Rocco e Biraschi la difesa tra le piazza le rager Schöne anzi no Schöne ho ormai l'abitudine Vanginke le barbona perdonatemi oggi sono un po' così Draxler sulla tre quarti Martin e Scamacca davanti Martin e Scamacca un attacco che voglio provare perché potrebbe essere tranquillamente l'attacco del del campionato o dell'Europa League dobbiamo vedere poi come sistemarlo comincia intanto Schalke e Genoa comincia la finale ancora lo Schalke sulla destra dove c'è Bentaleb Belfodil cerca spazi però costretto a ripartire ancora dal compagno Bentaleb deve cercare spazi però il cross per Mascarella bel tiro ottima però la parata facile anche per Mirante tocco per le rager c'è Barbona da solo Barbona la parata di Farman con un miracolo salva lo Schalke ora Vanginkel Draxler prova a saltare due Egnas ancora Draxler una finta un'altra salta Ritt ancora Stambulillo salta Draxler Julian Draxler che gol che azione personale di Draxler e qui esulta un po' come sta facendo ultimamente ma un gol pazzesco saltando praticamente tutta la difesa del Schalke 1-0 per il Genoa Baptistao dietro per Belfodilla chiama l'uomo adesso Mascarella Rocco con un intervento un po' fastidioso da dietro ed è fallo tra l'altro giallo non hanno mai ammonito gli avversari per un calcio di rigore questa volta però tocca a Marcos Rocco che debuta con un cartellino giallo però devo dirlo voi probabilmente magari vedrete poche azioni essendo anche una partita di precampionato ma Marcos Rocco mi è piaciuto perché il difensore centrale mi serve che riesca ad impostare e lui lo sta facendo bene adesso però Mirante contro Bentaleb 1-1 lo Schalke pareggia i conti bella partita dello Schalke e una bella partita in generale da parte di queste due squadre però qui arriva un pareggio abbastanza meritato comunque dello Schalke ha fatto bene in questo secondo tempo nel primo un po' meno effettivamente perché poche occasioni ma nel secondo tempo lo Schalke si è ripreso e 1-1 dell'acceleramento tocca per Martina che può aprire sulla sinistra invece piazza da solo deve saltare solo Stambolia ancora piazza prova a fermarsi sterza prova a piazza con il destro Farman vola e mette la palla in corner Bertilo bel tiro bella occasione ottimo Genoa però ancora 1-1 Ramanna e far ripartire sulla destra Cavac ancora Schalke che cerca di farlo sull'ultima occasione della partita anzi tiene il pallone per andare ai calci di rigore poi c'è ancora l'intervento in avanti ma finisce qui la partita finiscono qui 90 minuti regolamentari si ricomincerà dai calci di rigore qui si riparte come se fossimo 0-0 perché partiamo a mente sullo stesso piano Schalke e Genoa noi comunque nei calci di rigore stiamo facendo bene abbiamo dimostrato di saperli battere abbiamo dimostrato anche di saperli parare perché alcune volte Orosco ha parato un rigore tante volte Perin lo ha parato adesso però noi abbiamo Mirante che oggi ha bisogno della conferma per essere il nostro portiere eventualmente titolare in Europa quindi vedremo oggi come si comporterà la prova del 9 per Mirante ora Lanzini prova calcia il pallonetto e ovviamente Mirante non riesce ad arrivare ed è una 0-0 Schalke Van Ginkel dal dischetto uno degli ultimi arrivati in questo Genoa prova con il destro ex del Chelsea prova Van Ginkel spiazza il portiere 1-1 bel rigore si riparte da Chissano che calcia altissimo e sbaglia completamente e quindi si riparte ancora dall'1-1 adesso Criscito la possibilità di raddoppiare per il Genoa prova Domenico Criscito 2-1 il Genoa supera lo Schalke adesso Arit per pareggiare i conti Arit Palo e c'era anche Mirante si rimane sulla 2-1 con la possibilità del Genoa di andare sulla 3-1 Piazza contro Farman destro di Piazza spiazza Farman e fa 3-1 adesso Mascarella contro Mirante per vincere il torneo per il campionato prova Mascarella centrale Mirante rimane fermo e finisce qui la partita 3-1 finisce qui la lotteria dei calci di rigore per 3-1 il Genoa vince e convince possiamo dirlo perché anche contro lo Schalke che è una squadra parecchio rognosa abbiamo visto in due partite prima nel girone e poi in questa finale ma si è riuscito a superarlo ottima 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 prestazione da parte di Mirante che in partita ha fatto benissimo perché ha parato due o tre tiri molto importanti anche nelle scorse partite e qui poi si conferma un gran bel portiere di esperienza secondo me posso dirlo per questa stagione farà sicuramente bene perché è ovviamente l'ultima sua stagione si ritirerà quindi non potrà più giocare poi per noi però secondo me l'ultima stagione se la può giocare bene e ovviamente vorrà portare a casa trofei il primo e questo il torneo precampionato con Giannetti rimasto capitano dopo l'uscita dal campo di Lerager Giannetti prende il titolo prende il trofeo noi prendiamo il joystick come al solito lo solleviamo al cielo solito joystick come lo sapete tra l'altro dovevo anche pulirlo ma siamo 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 campioni di questo torneo precampionato è un bene perché tante volte noi ci puntiamo poco ma quest'anno serviva davvero tanto budget serviva tanto tanto budget per poter rinforzare la squadra di solito ci puntiamo sì però se lo perdiamo lasciamo abbastanza abbastanza perdere però noi quest'anno abbiamo fatto bene abbiamo puntato tantissimo e abbiamo fatto tutti i rinforzi proprio per provarli anche in questo torneo precampionato ovviamente vi consiglio sempre di giocarlo ed è quello qui Genoa campione della Coppa Internazionale Europea fate screen e postateli altra offerta per Cassata comprime torneo 3.500.000 che si aggiungono al nostro budget perfetto molto bene offerta dall'Udinese come sapete io tendo a non vendere i nostri giocatori nel campionato in cui militiamo per un semplice fatto che poi ce lo ritoriamo contro rischiamo di soffrirci perché sicuro sicuro sarà così di Cassata per l'Udinese ci dobbiamo pensare secondo me ho provato a dare un'occhiata ai giocatori da inserire come contropartita ma non c'è granché effettivamente nell'Udinese 5.000.000 per Cassata loro ne danno ancora 3 però secondo me è pochino ragazzi è pochino perché lui comunque ne vale 2.9 secondo me 4.45 si può vendere 4.8 per controfferta no l'Udinese sbrocca e quindi niente non so da fare allora ragazzi ho rinnovato tutti i contratti che erano in scadenza di quest'anno ho preso Cassata adesso ci rimangono circa 11.500 il budget non è cambiato tantissimo però almeno tutti i giocatori li abbiamo rinnovati così non rischiamo di perderli a zero e il loro valore ovviamente così non scende come quello di Cassata offerta per il trasferimento di Piazza ragazzi qui per chi è dello staff lo sa io Piazza lo adoro è un giocatore che mi piace da morire l'ho sempre voluto tenere però però siamo in un punto in cui dobbiamo migliorare la rosa sicuramente all'Atalanta non lo vendiamo e quindi rifiuto l'offerta ma dovessimo riuscire a prendere la sparo altissima 30 milioni dalla vendita di Piazza che dite? che direste? perché 30 milioni su me sarebbero veramente tanti per Piazza l'unica cosa che mi spiacerebbe è che Piazza sicuramente può ancora crescere può ancora dare del suo intanto Windal una barca di milioni Scherper va in prestito dal PSU molto bene fatemi sapere ovviamente voi per Piazza offerta per Favilli ho anche oggi avuto l'offerta di Scamacca per il prestito ma l'abbiamo rifiutata abbiamo Favilli che è rimasta un po' un'incognita abbiamo provato nelle partite di precampionato non mi è piaciuto e l'abbiamo messo sul mercato valutiamo offerte l'offerta è dall'anversa potrebbe partire effettivamente noi comunque di attaccanti allora discorso attaccanti alcuni mi hanno suggerito nomi molto molto interessanti quali lasagna che però non riesco a trattare e un nome su tutti che sta spopolando nei commenti ossia Tuzan Vlaovic giocatore che a me fa impazzire nella realtà mi piace davvero tantissimo sono stato uno dei primi penso prendendo la fantacalcio l'anno scorso ed è davvero un gran bel talento io lo vorrei prendere però la cosa è mi spiace non investire sui giocatori italiani questo mi mi spiace quindi che dite andiamo ad acquistare un altro attaccante dopo i nostri 4 comunque abbiamo poi Scamacca Janaccio Destro e Martin ne servirebbe un altro aspettiamo rinforzi della primavera ed eventualmente ci tentiamo un Tuzan Vlaovic o aspettiamo e basta i rinforzi della primavera perché secondo me si potrebbe magari risparmiare qualcosa nell'attacco e di investire di più sulla difesa e sul centrocampo ruoli che sono abbastanza delicati per noi centrocampo più che altro perché secondo me ne servirebbe almeno uno così come in difesa servono assolutamente un difensore e un centrocampista questo giocatore qui non lo cedono quindi rifiutano cioè meglio rifiutano loro l'offerta c'è anche Ongla un giocatore interessante 23 anni 70 potrebbe risolverci parzialmente il problema del centrocampista quindi noi lo trattiamo eventualmente perché dovrebbe valere tra l'altro adesso cambio un attimo il giocatore perché non mi ricordo effettivamente il suo valore dovrebbe essere sui sui 2 milioni all'incirca in attacco tra l'altro non hanno granché però giusto da prenderne uno a caso per riprenderci il valore di Ongla 2 milioni e 3 lui vale 2 milioni e 3 loro ce ne offrono 2 e 250 mila perché no perché non fare uno scambio a zero con Ongla chiediamo magari 300 mila giusto cosina in più niente 250 mila e 2 milioni per Favilli io direi 2 e 6 e la chiudiamo chiudiamo la trattativa 2 milioni e 6 l'anversa accetta mi dispiace un sacco per la cessione di Favilli magari lo prenderemo poi nelle prossime stagioni chi lo sa Favilli venduto e Cassata chiede di giocare contro l'Inter in Supercoppa no mi spiace mi spiace davvero tantissimo ma non credo giocare a Cassata in Supercoppa italiana le raga intanto è al 75 di overhaul molto 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 bene e lui penso giocherà perché farà parte della formazione titolare e andiamo un attimo nel lab mercato ragazzi ho trattato 4 giocatori 4 possibili difensori 4 possibili innesti per il nostro geno parlo di Nugno Tavares un giocatore pazzesco velocissimo abbiamo trattato anche altri difensori centrali che adesso vi mostro piano piano però per il centrocampo stavo pensando a Pessina stavo pensando anche a Murgia però è un pochino basso effettivamente di overhaul alla fine è un Cassata 2 serve qualcuno di un pelo più forte o meglio anche solo un pelo più promettente Iker Lozada è un giocatore che mi interessa Lasagna forse possiamo ritrattarlo Vlaovic eccolo qua 73 di overhaul 21 anni vale circa 7-9 milioni quindi per 7-7 e mezzo riusciremo a portarlo a casa Piontech che sarebbe il sogno nel cassetto ma abbiamo poco budget Lozada un giocatore molto molto interessante su cui già l'anno scorso io avrei voluto puntare ma non l'abbiamo fatto di budget noi abbiamo 13 milioni quindi ragazzi adesso la palla passa a voi vi lascerò qui sotto in descrizione un sondaggio per farmi sapere il difensore da prendere intanto l'obiettivo di ottenere una serie di 3 partite in violato abbiamo ancora a farlo 17 milioni da vendita le magliette siamo quasi lì siamo al 97% aumenta il valore del club del 75% con acquisti e gestioni qui torna in voga la domanda di piazza lo cediamo pardon oppure no perché potrebbe portarci in cassa tanti 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 milioni tra l'altro ho sistemato anche i piani di crescita per i vari giocatori Williams è ancora sul mercato Aiwu per adesso è lì e lo terrei in squadra perché come diciamo è quel jolly in più che ci fa comodo le raga le sarebbero le sarebbero al 75% Schöne per adesso rimane Van Ginkel assolutamente rimane Saponara anche qui ho un po' il dubbio perché alla fine abbiamo preso Draxler da usare come CC ma come COC sta facendo fuoco e fiamme lì davanti quindi potremmo eventualmente cedere Saponara tenendo Guidi e Draxler però fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione caso per adesso lui ha qualcosa in più bisogna capire questo qualcosa in più cos'è perché lo mettiamo in presito lo mettiamo in lista trasferimenti fatemi sapere voi qui sotto nei commenti io vorrei puntarci sinceramente o non so se in questa stagione magari un po' di presito potrebbe eventualmente fargli bene tra l'altro nel prossimo periodo ovviamente ci sarà l'Inter bisogna aspettarsi davvero tante tante cose perché la finale è alle porte Super Coppa Italiana contro l'Inter vedremo anche la Coppa Italia il primo turno di Coppa Italia contro il Lecce nel prossimo episodio mi raccomando supportate la serie supportate questo video e il canale e soprattutto anche il canale Viola nella piattaforma Viola perché siamo quasi a 200 follower quindi vi aspetto per la maratona poi dei 200 follower veramente poi ne parleremo bene abbiamo Kakace con 11.500.000 interessante Nuno Tavares 12.000.000 circa Botman con 3.000.000 circa e Haidu giocatore interessante che ho provato a trattare sono questi 4 diciamo segnalati per la difesa voi chi comprereste Haidu tra l'altro serve sui 10.000.000 perché Tavares mi spiacerebbe perché lui è più un esterno potrebbe essere magari eventualmente da prendere come esterno a 10.000.000 circa e ce lo riprendiamo poi tutti i milioni vendendo piazza magari a 30 usiamo Tavares come esterno però abbiamo poi Pellegrini e Tavares da far crescere non lo so fatemi sapere la vostra opinione Botman potrebbe essere il difensore in più da mettere per il nostro Genoa il problema è che è molto simile ad Haidu quindi si andrebbero ad alternare troppo loro due io vorrei uno di un po' più pronto e potrebbe essere Tavares però non so se come difensore centrale di sinistra si è sprecato meno Losada oppure Vlaovic per l'attacco questi due nomi che mi balzano di più per la testa sarei per Vlaovic perché è molto interessante contando che destro comunque piano piano calerà perché si lo faremo giocare praticamente sempre però bisogna fare attenzione ragazzi io tra l'altro vi invito se per caso ho giocato a Fortnite ad usare il mio codice creatore che l'abbiamo finalmente attivato è Matex Unstable come il nome del mio canale tutto maiuscolo tutto attaccato vi invito ovviamente ad usarlo e a farmi sapere quando e per cosa lo userete io ragazzi qui vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento ovviamente sul canale Viola alle 4 mi trovate in live come sempre noi ci vediamo alla prossima sempre qui con un nuovo video con un nuovo episodio dalla carina con il nostro Genoa alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti